Avvocato Taibi, questo fine settimana torna l'appuntamento con le giornate FAI di primavera, sono nove i siti da scoprire. Bene, sicuramente siamo molto soddisfatti di questo percorso che abbiamo chiamato il trekking urbano all'interno di Agrigento, all'interno del centro storico, sono nove siti perché comprendiamo anche Palma Montechiaro dove apriamo un sito simbolo come il monastero delle Benedettine e quindi ci aspettiamo che i visitatori vengono a vedere non soltanto ovviamente i singoli siti ma facciano tutto l'intero percorso che passa da Porta di Ponte. È un'occasione particolare anche perché 25 e 26 sono le giornate che precedono il momento dell'audizione di Agrigento al Ministero e quindi speriamo anche che sia di buona specie. È stata una scelta quest'anno di rimanere vengendo storico anche per rispettare un progetto regionale che è stato deciso a Favignana, l'ultimo convegno regionale FAI, quindi anche la delegazione di Agrigento ha aderito a questo progetto regionale che si chiama il Grand Tour in Sicilia, quindi viaggianti e viaggiatori dell'Ottocento in Sicilia. Noi rientriamo perfettamente come viaggiatori in Sicilia perché abbiamo avuto tantissime presenze da Byron a Brayton a Ghete stesso, quindi ci siamo rientrati perfettamente nel progetto regionale per cui abbiamo studiato un percorso all'interno del centro storico di Agrigento anche per rivalupare il centro storico stesso. Quindi si salirà dalla scalinata Madonna degli Angeli e entreremo da Arco dei Cavalieri di Malta per addentrarci già da lì all'interno delle vie dei quartieri, dei cortili del centro storico. Si arriverà a Madonna degli Angeli, si visiterà la chiesa di Madonna degli Angeli per poi addentrarci ancora una volta all'interno. Il percorso prevede la visita anche del monastero di Santo Spirito, della chiesa dell'Abbadiola, della chiesa del Purgatorio e poi esternamente visiteremo Palazzo Scerri e come detto Palazzo Celauro perché c'è la targa di Ghete che si ricollega al progetto regionale. Il programma è stato definito dal quartiere degli stazionari al barocco dell'Antica Girgenti perché si parte proprio da Porta di Ponte che era il vecchio quartiere degli stazionari dove c'erano proprio le botteghe degli stazzoni per arrivare storicamente parlando al barocco siciliano che si può visitare benissimo, si può vedere benissimo in Palazzo Celauro. Parteciperanno tutte le scuole della città di Agrigento e le scuole superiori, quindi liceo classico Empedocle, liceo scientifico Leonardo, liceo scientifico delle scienze umane politiche, oltre a tutti gli istituti superiori che ci sono e quindi l'istituto Nicolo Gallo, Fermi e Sciascia. Quanti saranno i ragazzi coinvolti? I ragazzi saranno parecchi perché alcuni parteciperanno in qualità di Appendisti Ciceroni quindi saranno i ragazzi che avranno il compito di guidare tutti i visitatori e la scoperta dei beni appunto prescelti, ma altre classi parteciperanno comunque sempre come classi amiche del FAI, ovvero saranno tutti i visitatori, saranno turisti, saranno appunto coloro che potranno apprezzare comunque le bellezze delle scelte appunto per le giornate di sabato e di domenica. Anche il FAI Giovani sarà presente alle giornate FAI di primavera, siamo felici, siamo orgogliosi di poter partecipare e di poter rientrare di nuovo nel comune di Agrigento, in particolar modo nel centro storico. Dopo tante edizioni, anche delle giornate FAI d'autunno che sono seguite direttamente dal FAI Giovani, siamo ritornati ad Agrigento e saremo pronti ad accorgirli tutti a braccia aperte. Grazie.